Il mito del lavoro stabile in Germania sembra vacillare. Secondo gli ultimi dati, la disoccupazione è in aumento e le aziende frenano le assunzioni. Ma cosa significa tutto questo per chi sogna di trasferirsi nel paese teutonico? L'Agenzia Federale per il Lavoro ha lanciato l'allarme. Oltre 2,8 milioni di tedeschi sono senza lavoro. Un numero in costante crescita che preoccupa soprattutto i giovani e i meno qualificati, sempre più in difficoltà a trovare un'occupazione stabile. Ma quali le ragioni di questa brusca frenata? Innanzitutto la crisi economica. La Germania, come il resto d'Europa, sta risentendo degli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi energetici. Le aziende, per far fronte a questa situazione, stanno riducendo i costi e limitando le assunzioni. La cassa integrazione in aumento. Sempre più lavoratori tedeschi si ritrovano a lavorare meno ore e a percepire una parte dello stipendio dallo Stato. Un ulteriore segnale è che la situazione economica non è delle migliori. La diffusa mancanza di competenze. Nonostante ci siano ancora molte offerte di lavoro, molte aziende faticano a trovare candidati con le competenze richieste. Ovviamente questa può essere un'opportunità per chi è disposto a formarsi e a specializzarsi. Scopriamo perché non tutto è perduto. Nonostante le difficoltà, il mercato del lavoro tedesco offre ancora molte opportunità, soprattutto per chi possiede competenze linguistiche e digitali. Inoltre, il governo tedesco sta investendo molto nella formazione professionale per aiutare i lavoratori a acquisire le competenze richieste dalle aziende. Cosa significa tutto questo per noi italiani? Per chi sogna di trasferirsi in Germania, la situazione attuale può rappresentare sia un'opportunità che una sfida. È importante informarsi bene sulle condizioni del mercato del lavoro nel settore di proprio interesse e prepararsi adeguatamente. Qualche consiglio in più. 1. Impara il tedesco. La conoscenza della lingua è fondamentale per trovare lavoro e integrarsi nella società tedesca. 2. Specializzati. Scegli un settore in cui c'è alta domanda di lavoro e investi nella tua formazione. 3. Sii flessibile. Non limitarti a cercare lavoro in una sola città, ma considera anche altre regioni della Germania. Vuoi saperne di più sulla vita in Germania? Iscriviti al nostro canale Vivere in Germania per rimanere aggiornato sulle ultime novità e ricevere consigli utili per organizzare il tuo trasferimento. Metti mi piace ai nostri contenuti per aiutarci a raggiungere più persone. Appuntamento ad un prossimo video.